Per Padova un periodo di grandi eventi, agosto termina con la domenica 29 agosto la marcia, la corsa dedicata al mondo del pudismo, la manifestazione della Non Solo Sport Race. Abbiamo qui Arianna Zabeo assieme all'assessore Umberto Zampieri. Allora Arianna, possiamo contare un po' la terza edizione, però diciamo l'edizione 2010 della Non Solo Sport Race, che quest'anno ha preso proprio il nome della non solo sport, giusto? Esattamente, quest'anno è appunto edizione 2010, la novità è che si parte da Prato della Valle alle 8 di sera, come tutti gli anni una non competitiva, quest'anno la novità è che invece è una cronometrata, sempre aperta a tutti, quindi agli amatori, ai professionisti, bellissima e notturna, quindi grande novità per il centro storico di Padova, sempre un percorso presidiato, una bellissima maglia assolutamente innovativa in quanto è in un tessuto fatto con 8 bottigliette di plastica riciclate, rigorosamente Nike, quindi a impatto ambientale zero, altamente performante. E facciamo vedere dopo. Allora sentiamo l'assessore invece che sta riprendendo l'attività dopo le ferie, che peraltro l'ha sempre vista a Padova, l'ha passata a Padova in qualche modo, però diciamo che Padova è una città che ha una grande vocazione per le attività popolari, cioè per le attività di grande apertura per il pubblico. Questa corsa, marcia, insomma questa giornata, questa serata dedicata al podismo è un esempio, anche in attesa della marcia poi da Strapadova Viva, che sarà il 10 ottobre. Allora quanto è importante un po' perché la gente possa praticare concretamente le attività motorie? No, beh è fondamentale, diciamo che siamo fortunati intanto di avere una bella città, una città nella quale è piacevole correre e partecipare a una competizione, anzi non una competizione, perché in questo caso non è competitiva, ma insomma una corsa definiamola non competitiva, come la non solo sport race o altre attività che vengono svolte durante l'anno. Se non avessimo una bella città non sarebbe neanche bello attraversarla di corsa, si parte dal Prato della Valle, si attraversa il centro storico, come diceva Rianna Zabeo, saremo in notturna, quindi è una cosa credo molto affascinante, sarà anche un modo di vedere e di vivere la città diverso. Poi queste attività sono importanti anche perché trasmettono un messaggio che a noi all'assessorato allo sport fa molto piacere, che il movimento, il tenersi in forma fisica è una cosa che contribuisce alla salute, oltre che un bel modo per stare insieme. Devo dire però che la non solo sport race è sicuramente un evento al quale teniamo in particolar modo, perché è una delle situazioni in cui l'impegno, in questo caso di non solo sport, di un privato, a favore di un'attività che si rivolge a tutta la collettività, offre un risultato molto interessante anche per l'amministrazione comunale per tutta la città. È un po' l'esempio di quello che ci piacerebbe diventasse in futuro il rapporto con il mondo privato che ha a che fare con lo sport. E spero che anche quest'anno non solo sport race sia un successo, invito tutti a partecipare, ci sarò anch'io, forse anche altri esponenti dell'amministrazione comunale di Padova, proprio perché la bellezza del percorso, il fatto che si svolga di sera e che nasce anche da una collaborazione tra l'amministrazione e in primis dall'impegno di non solo sport race, offre un modello organizzativo, diciamo così, che nel futuro potrebbe tornare utile anche per altri grandi eventi sportivi. Ecco, allora Arianna abbiamo parlato della maglia, ne hai portata qui una, allora se vogliamo anche spiegare qualcosa, intanto falla vedere perché è un po' in anteprima questa presentazione. Io ci tenevo proprio a sottolineare quello che ha detto l'assessore Zampieri, un connubio proprio perfetto tra l'amministrazione pubblica e il privato. Quest'anno poi in modo particolare siamo stati felicissimi perché abbiamo avuto anche la collaborazione di aziende private, Despar, Anton Veneta, che ci hanno aiutato tantissimo. Poi una cosa assolutamente da ricordare è che questa è una manifestazione a scopo benefico. I 5 euro di iscrizione, grazie ai quali si ha questa bellissima maglia, andranno totalmente devoluti in beneficenza per il progetto dell'Istituto di Ricerca Pediatrico della Città della Speranza. Ecco, io credo quindi che il correre per la ricerca sia fondamentale, ci si diverte, si fa sport, si corre appunto per questo grandissimo progetto. Io credo che più di così. Non posso fare altro che consegnare ufficialmente a questo punto la maglia all'assessore Zampieri. Che la indossa anche. Allora, la indossa. Ricordiamo che il valore commerciale della maglia è circa 40 euro, giusto? Sì, questa maglia ha un valore commerciale importante. Per quanto ci riguarda, infatti è stata importantissima anche la collaborazione di Nike, che l'ha prodotta in esclusiva per noi, e altro quindi grande sponsor, lo sponsor tecnico di questa manifestazione, e quindi io direi che meglio di così non si può fare altro che correre a iscriversi a questo punto. Ecco, per fortuna la misura della maglia era giusta per l'assessore. Allora come si sta con questa maglia? Diciamo che se togliessi la camicia starei meglio. Comunque bene. Devo dire che mi ha affascinato tantissimo la storia di questa maglietta. Anche questo dà un bel esempio, cioè riuscire a creare delle magliette, recuperando delle bottiglie di plastica, non mi sembra esagerato dire rappresenti un po' una frontiera del futuro. Io penso che sport e attenzione all'ambiente stiano molto bene insieme, perché lo sport poi molto spesso si pratica, soprattutto a livello di base, se abbiamo a disposizione una bella città, dei bei parchi, dei bei percorsi vita, dei begli argini. Quindi unire sport e attenzione all'ambiente lo trovo un bel messaggio. Con questa maglietta si sta benissimo. Quindi vi aspettiamo, cioè noi vi vedremo, ma aspettiamo tutti i nostri web spettatori, proprio domenica sera. Che saranno sicuramente a Padova alla Non Solo Sport Race. Che tra l'altro seguiremo come telepadova.com in diretta web, quindi tutti potranno seguire quello che succederà a partire la diretta da ore 19, poi dalle 20, poi c'è questa corsa. Abbiamo circa due ore di tempo per concludere il percorso, che è 10 chilometri, come è già stato detto. Quindi vi aspettiamo tutti. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.